E' stata presentata all'Aquila la stagione teatrale dell'Uovo 2013-2014, che partirà il 10 novembre prossimo al ridotto del Teatro Comunale, con il primo appuntamento del fortunato cartellone per bimbi e famiglie a teatro con mamma e papà. Location inusuale per l'incontro con la stampa, alla sede del Teatro San Filippo, storica di Mora e dell'Uovo, oggi in fase di ristrutturazione e consolidamento statico dopo il sisma del 6 aprile del 2009. Le opere di rifacimento iniziate a luglio di quest'anno proseguono a ritmo serrato, ha dichiarato Fabrizio Magani, direttore dei lavori, tanto che il completamento del rafforzamento statico è previsto per la prossima estate, mentre per dicembre saranno completati anche i lavori che riporteranno il teatro dentro San Filippo. Chiesa barocca, particolarmente evocata a struttura teatrale, San Filippo tornerà così ad essere teatro, con qualche posto in meno a sedere, ma con una maggiore visibilità e godimento del valore monumentale della splendida chiesa, ha precisato Magani, raccogliendo ogni frammento con uno speciale protocollo conservativo in considerazione del fatto che si è di fronte ad un monumento particolare, anzi speciale. Antonio Massena, direttore artistico, ha quindi illustrato le molteplici attività di ricerca, produzione, programmazione e formazione dell'uovo soffermandosi sulle nuove produzioni realizzate con Maria Cristina Gianbruno e l'Accademia degli Artefatti di Roma. La ricostruzione del teatro San Filippo è tuttavia l'elemento che oggi premia gli auspici degli operatori dell'uovo che attendono con trepidazione il ritorno nell'antica residenza. Stanno andando avanti molto velocemente, tant'è che si pensa, se non ci saranno inghippi durante questioni tecniche da risolvere durante le fasi di lavorazione, che il teatro riapra verso Natale del prossimo anno, quindi Natale 2014. I lavori, come vedete, sono importanti perché si tratta non solo della messa in sicurezza, ma anche del ribaltamento delle due facciate, poi la parte degli uffici che è totalmente distrutta e qui ci sono grossi lavori anche di stabilità sulla parte delle cappelle. Quindi i lavori ce ne sono da fare, però l'impresa sta andando avanti alacremente, lavorando al meglio delle possibilità. Questa fu una scommessa dell'amministrazione comunale tanti anni fa, però mi pare che fu una scommessa vincente. Questa era una scommessa dell'amministrazione comunale nel 1986, tant'è che nel 1986 l'allora amministrazione comunale dell'Aquila su nostra proposta ci diede questo spazio, che era uno spazio chiuso, inagibile, e noi riuscimmo a trovare tramite lo Stato e tramite una serie di sponsor privati le risorse per trasformarlo in teatro. È stato riaperto nel settembre del 1987 e fino al 5 aprile 2009 ha lavorato ininterrottamente. Adesso, diciamo, dopo cinque anni e mezzo, sei anni dovrebbe riprendere la sua funzionalità. Torneremo a fare spettacolo, a fare teatro, invitando subito le maestranze che hanno permesso di compiere questo miacolo. A questo assolutamente, loro saranno seduti in prima fila, insieme alla direzione regionale, alle imprese, a tutti quanti che hanno lavorato, perché merito è loro.